Ciao ragazzi, oggi andiamo a vedere un circuito di core stability per il mutatore, per andare a rinforzare gli stretti del core funzionale al miglioramento della performance in acqua. Vedremo 4 esercizi, lavoreremo sempre a tempo, 30 secondi di lavoro, 15 secondi di recupero e poi andremo a ripetere i nostri 4 esercizi per un totale di 5 volte, quindi 27. Pronti? Partiamo! Il primo esercizio del nostro circuito è un allo body, one leg dinamica, quindi ci metteremo in posizione supina, pancia in alto, sdraiati, addome contratto, andiamo a tratturare una del comodo. Come essere, come si lascia, come la polizia, quando ti prende la polizia, ma pure nessuna следentazione, in effetto, ma colizia, quando ti prende la polizia, in effetto, ed è un ultimo esercizio della polizia. Questa è cuộc? Questa è una polizia. Questa è un proizio, perché la polizia non potrà un' periccala, per ogni attrazione, che prende la polizia, ma non potrà essere un proizia. Questa è un proizia! Questa è un proizia. Questa è una polizia, un proizia. Numero 2 andiamo a effettuare un side plank rotation per andare a lavorare con i muscoli obliqui e la rotazione del corpo, ottimo per lo stile libero ed il dorso, partiamo vomito sotto la spalla, piedi uno sull'altro, l'altro braccio flesso in alto, per questa coesione, rotazione e cambiamento. Terzo esercizio bello tosto che inizierà a farci scaldare nell'addome, un plank sulla switchboard per migliorare anche la propria gestione delle spalle, ci mettiamo in posizione, e da metri la conciola e impariamo la propria gestione della propria gestione del braccio quindi muscoli levo, va ciò del dolore e immame tendo la propria gestione Chiudiamo il nostro quarto esercizio, un sit-up con il medico, quindi andiamo ad applicare anche il movimento dinamico delle braccia. Ci mettiamo sempre in posizione supina, pancia in alto, palla medbole al petto, da questa posizione faccio il mio sit-up, quindi salto e spingo con le braccia verso l'alto. L'importante è sempre mantenere la schiena appoggiata in sopio e torno. Bene, abbiamo terminato il primo giro, ora vai a ripeterlo per un totale di 5 volte, quindi 20 set. È importantissimo che tu vada a inserire un allenamento mirato al potenziamento del core in ogni tua seduta di allenamento, oppure dedicare essenzialmente una seduta o due alla settimana solo sul potenziamento dei muscoli del core. Perché dobbiamo andare a rinforzare i muscoli del core? Per migliorare il nostro asset dell'acqua, quindi avere un corpo più idrodinamico e andare a migliorare il trasferimento della forza degli altri superiori ed inferiori nell'acqua. Essendo l'acqua un fluido ed essendo la catena cinetica aperta, quindi senza appoggi fissi, dobbiamo cercare di rendere il nostro corpo più stabile possibile per andare a sfruttare la potenza delle gambe e delle braccia e di trasferire così in un moto più veloce il nostro corpo nell'acqua. Se il video ti è piaciuto lasciami un pollice all'insù, qui sotto trovi tutti i miei contatti dei miei canali in descrizione, quindi se per qualsiasi cosa puoi contattarmi. Ci vediamo nel prossimo video, ciao! Ciao!